Il signor ASMR Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale in un nuovo video dove andrò a fare 65 triggers in 10 minuti Vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video e di iscrivervi al canale se per caso non l'aveste ancora fatto Un grazie in anticipo a chi lo farà e ora via col video, let's go! Grazie a tutti! Grazie a tutti! il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 toctoctoc ticc 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 tic ahhhh ohhhhhhhhh lai ca 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info guarda la luce 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 laılmış grazie a tutti Sì. Alla prossima a presto Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì.